Benvenuti, oggi abbiamo Maria Pugliatti, ospite di questa intervista. Non c'è molto da dire, probabilmente tutti i colleghi la conoscono perché è molto attiva su tante aree. Quello che devo dire che è il motivo per cui io l'ho voluta qui oggi è perché sicuramente è anche stata una pioniera dell'integrazione, una delle prime a andare a curiosare all'estero, portare in Italia certe discipline, tante diverse. Nel tempo ci sono state delle evoluzioni, quindi grazie Maria ad aver accettato l'invito e inizierei proprio chiedendoti com'è che è nata nella tua storia questo interesse per l'integrazione e come si è evoluto nel tempo. Intanto grazie Fabio di avermi invitato, sono molto contenta di avere questo spazio di condivisione. Allora, in realtà è iniziato facendo psicoterapia personale, nel senso come molte cose succedono. Facendo una delle prime psicoterapie, perché poi durante tutto il percorso, con tutte le cose che ho fatto, ogni volta che facevo qualcosa andavo a fare quel pezzo di lavoro. E accorgersi di come appunto mi stava un po' stretto il pezzo metodologico, tecnico, solo di un determinato approccio, perché mi sembrava sempre che mancasse un pezzo. Come ogni cosa che mi succede in realtà per me è un fenomeno da studiare. E mi dico, ah interessante questa cosa che mi sta succedendo, no? E quindi poi vado a studiarla anche. Dalla mia prima psicoterapia, che era una psicoterapia che mi ha dato tanti spunti interessanti, tra l'altro era una psicoterapia corporea, dove ho imparato un stacco di cose su di me, però mancavano dei pezzi che non hanno a che vedere con la terapeuta in questione, dico un ricordo fantastico. Ma appunto dove c'era, come dire, quella visione d'approccio che non teneva conto di altri elementi, che invece piano piano sentivo che erano in qualche modo mancanti. E quindi questo aspetto che è passato dalla curiosità scientifica, cioè quindi la curiosità di essere entrata a fare un lavoro, aver cominciato a fare un lavoro appunto che è il nostro, che è un lavoro bellissimo, che ci richiede un sacco di aggiornamento, io sono una molto curiosa che ancora fa questo lavoro con grande passione e curiosità. Quindi da un lato c'era quella parte di me che scientificamente andava, appunto a cercare di dire, manca un pezzo, manca un pezzo, e faceva corsi, uno che ha fatto un quantitativo di corsi pazzeschi. E dall'altro nel frattempo di me vedevo delle cose, e questo insieme fra parti mancanti e a volte sentire un po' stretto, un modello, un modello, solo un modello, che è detto fra noi un po', secondo me, a che vedere con la mia intolleranza alle autorità. Quindi a me è quella roba un po' rigidina, un po' di intolleranza alle regole, così. Però a parte questo pezzo scherzoso, sentire sempre che c'era un pezzo che non mi corrispondeva perché mi faceva sentire troppo impacchettata. Quindi è stato un po' un insieme fra sentire, studiare e cercare di fare al meglio il mio lavoro, vedendolo anche con i pazienti. Dico, ah, caspita, ho imparato questo metodo che si fa così, che deve essere fatto così, eppure la sensazione che manchi qualcosa. Oppure sentivo proprio nella relazione col paziente che c'era qualcosa che io non riuscivo a vedere. dall'altro il pezzo su di me, di terapia, ok? Che non era un caso così disperato in realtà. E però sentire anche che anche a me mancava un pezzo e sentirmi molto stretta, in panni rigidi. Questo aspetto un po' di ribellione interna. E quindi di fatto questo è stato un po' l'avvio. Sì, tra l'altro hai toccato uno dei temi, credo fondamentali, nell'inizio. Poi tutta la nostra professione, ma soprattutto all'inizio, che da una parte lo si vede, anche tu fai molte docenze, sia ai più giovani, sia già agli esperti, e io sto notando, dimmi se lo note anche tu, che all'inizio c'è proprio questo bisogno, questa fame del protocollo, il metodo, che a volte diventa quasi ridicolo in buona fede, nel senso che da una parte si vuole fare uno studio complesso, come l'uomo, la facoltà di psicologia, la psicoterapia, e poi si cerca il dizionariato causa-effetto, perché probabilmente dà sicurezza, no? E poi più vai avanti, più le cose cambiano. È una cosa che ritrovi? Assolutamente sì. Dà un po' un senso del contenitore, no? È un contenitore, è come dire, se seguo questo protocollo non mi posso sbagliare, no? Che è un po' a che vedere, nei colleghi, ma non è un problema di essere esperti o meno, no? Magari a volte un po' di insicurezza, anche nell'imparare qualcosa di nuovo, no? Un protocollo mi mette in sicurezza, apparentemente, però poi può essere limitante. Tant'è vero che quando io insegno, e ormai, come dire, un po' l'arroganza, lasciamelo dire, no? Che sto insegnando cose mie, che in realtà cose mie è l'integrazione dell'integrazione, preso quello, preso quell'altro, messo insieme e sperimentato questi nuovi pazienti, che sono delle cavie pazzesche in realtà, e tiro fuori delle cose, in realtà quando poi insegno, dico sempre, allora, questo è quello che vi sto insegnando, che magari fra un qualche tempo sarà già cambiato, ci avrò aggiunto altro. Se voi lo prendete, lo smontate, ci aggiungete altro, va benissimo. Non è il modello, è una, no? Un approccio che potete prendere, sistemare, rimodulare, inserire, trasformare, e quindi l'arroganza è solo nel dire che adesso insegno delle cose che sono mie, mettiamola così, ma poi c'è tutto un pezzo di grande libertà, di dire, prendete, hai fatto quello, stai facendo questo, ma pensi che un pezzo di questo stia bene attaccato a quell'altro, fallo, provalo, sperimentalo, se funziona e ti piace, magari dimmelo, perché è una figata, e al prossimo corso lo aggiungiamo. Questa libertà di intanto non sentire che quando insegni delle cose di sentirti minacciato, cosa che molte volte, no? Cos'è che riscontriamo, Fabio, no? Molte volte chi insegna modelli si sente tanto minacciato e l'aderenza ai protocolli e a quell'impostazione è legata tanto al senso di minaccia. Quindi, come dire, io sono una curiosa, sono una smontatrice di cose, faccio un corso, dico, ah, figo, dico, se ci aggiungo questo, che non è una critica a quello che sto studiando, ma è questa possibilità di farlo diventare anche qualcosa di mio, no? O qualcos'altro, aggiungendo. E questa è la libertà che io mi permetto, che cerco di dare quando insegno e che invece trovo una grande difficoltà nei colleghi che appunto si avventurano, ma poi sono sempre un po' su questo aspetto, anche un po' di rigidità a volte, no? Io devo dire che incoraggio un sacco a smontare chi ha fatto corsi con me, assolutamente lo può dire questo, no? Prendete, fate, citate la fonte, che è l'unica cosa che dico, da dove arriva, giusto per ricordarselo, dopodiché smontate, fate, risistemate, e va bene così, e l'integrazione delle psicoterapie è questo, nessuno si inventa niente di nuovo, no? Aggiungiamo, studiamo, mettiamo insieme un po' di cose, quelle che ci piacciono di più, funzionano, no? E dare libertà anche alla creatività del terapeuta, perché con questa storia del protocollo, e la zerenza al protocollo di qualsiasi tipo di impostazione si tratta, in realtà perdiamo un sacco di creatività. Sì, che poi si riverbera in tanti problemi, la noia nostra, perché la sicurezza ha sempre un prezzo da pagare che è la noia ed è l'inefficacia, perché poi spesso ci si nasconde dietro alle statistiche che però sono fatte appunto con questi protocolli in ambiente accademico e l'aderenza. E poi uno dice, ok, sì, il 70% ha avuto un beneficio, ma se fosse stato qualcosa su misura, non è che magari era l'80% e il 90%, solo che era difficile da far ricerca. Quindi sono due aspetti che vanno in direzioni un po' diverse. Sì, è come dire che adesso se non è evidente base fa tutto schifo, dove in realtà a volte è semplicemente o la mancanza di opportunità di far ricerca o perché chi fa la clinica non c'è tempo di far ricerca. Banalmente, no? Cioè, come di tutti questi grandi ricercatori non fanno clinica, cioè, chi fa clinica c'ha da fare, già, no? è lì con i pazienti, cerca di capire i modi migliori per aiutare i pazienti, no? Acquisisce un po' di... Sì, in questa arte in cui mi ritrovo molto dello smontare, ricreare, c'è anche un risultato finale che è come la musica di un musicista che ha studiato per anni, per cui dietro alla singola nota c'è uno studio mille non detti, per cui far la ricerca su queste cose è praticamente impossibile, oltre, alla ricerca, alla mancanza di tempo, altri aspetti. Però si vede, perché i pazienti sono soddisfatti, i pazienti tornano, credo che è un altro tema interessante per cui può essere utile per chi non ha ancora approcciato, per chi si è accesa la lampadina e invece dice, ma forse un po' di integrazione è che nel mondo della psicologia, della psicoterapia soprattutto, c'è un grande divario tra chi ha pochi pazienti, chi ne ha tanti, e se vai a vedere chi ne ha tanti in qualche modo è un po', mettiamo così, forse non è un parallelismo perfetto, ma è un po' come i ristoranti nella guida Michelin, nel senso che quando arrivi a essere chef creativo, chissà come, la gente viene, anche se costi tanto, anche se sei lontano. Se hai imparato a fare quella cosa lì ottima, ma è sempre solo quella dopo un po' si svuota, no? e c'è sempre questo senso di mancanza e credo che questo possa essere proprio un bel messaggio invece per chi come noi ama questa professione, ma magari si trova in una situazione di mezzo in cui vuole rilanciarla e non ha il coraggio oppure sta scegliendo l'unico approccio perfetto e forse bisogna assaggiarne tanti, mi sembra che il tuo messaggio sia anche un po' questo, assaggiatene, smontate, abbiate coraggio. Sì, guarda, quando io insegno nelle scuole di specializzazione i miei studenti che poi intanto si abbiliscono in realtà li smonto da subito, nel senso che quando loro arrivano a una scuola di specializzazione ok, poi mi specializzo, divento psicoterapeuta, ah, sono arrivato. Io dico ragazzi, avete appena iniziato, è solo l'inizio, no? E io racconto un po' questo e dico, se mettessi insieme tutti i soldi che ho speso in un investimento di informazione, avrei comprato una villa in Polinesia, anzi, forse avrei comprato la Polinesia perché è solo l'inizio, cioè ti dà un contenitore dopodiché quello che, no? L'invito è quello proprio di investire in curiosità, no? Di darsi la possibilità di essere curiosi in un modo acritico, no? E un po' quel pezzo, sai, di, ehm, adesso la mindfulness la insegno anch'io e la faccio anch'io, senza di giudizio, è bellissimo, è una cosa che ti piace a tutti, l'assenza di giudizio in realtà è una cosa che caratterizzerà tre persone in croce, no? Non è fare mindfulness che ti fa essere in assenza di giudizio, perché prima di tutto è l'assenza di giudizio nei tuoi confronti, ma permetterti di esplorare, di sbagliare, di dire, ok, ho fatto questo ma obiettivamente non mi piace, ma come? È l'approccio del secolo, ok, ma mi fa cagare, cioè non mi piace, cioè non posso stare col fatto che non mi taccia, cioè darsi la possibilità di essere curiosi, no? E aggiornarsi, no? L'aggiornamento poi è fondamentale e puoi seguire tanti aspetti, ma la curiosità, quella fiammella che ci mantiene ancora alla mia veneranda età, tu non so quanti anni abbia, ne ho 51, ma quella cosa per cui io ho sempre un piano B nel giorno in cui mi dovessi scoprire di fare questo lavoro, una roba a parte, che non so se arriverà, non credo, perché in realtà sono ancora tanto appassionata e la passione nasce anche dalla ricerca, no? Dalla curiosità che ho fatto i miei approcci, io quest'anno ho dovuto spostare per problemi di salute, ho buttato giù un modello sul trauma, uno sull'attaccamento, un altro basico sul modello corporeo che verranno presentati per l'anno prossimo, detto questo io continuo a fare il mio aggiornamento, vado là, faccio la studentessa, tanto è fantastico, non devo fare niente, se no prendo appunti, studio, rifletto, metto insieme, penso a quel paziente, dico, ma con quello che faccio oppure, ma questa cosa dove la posso inserire, come la potrei fare? Ed è fantastico, no? E la cosa è che appunto qualche collega dice, ma adesso detta così fa brutto, sei arrivata dove sei arrivata, anche meno, mi fa sempre un po' impressione, cioè semplicemente sono una che continua a essere curiosa, quindi non sono arrivata, è la curiosità. Che fai ancora aggiornamento? Sì, chissà quante altre cose ho da imparare e da riorganizzare e questo atteggiamento in realtà io lo porto con i pazienti perché quando poi io imparo o faccio una roba nuova dico, oh, ho imparato una roba fichissima e i pazienti non sono pazienti, sono delle cavie poverine, però consapevoli, si lasciano trasportare dal mio entusiasmo e l'altro elemento è che io dico sempre quello che su di me ha funzionato io lo riporto, quello che su di me non ha funzionato può essere anche l'approccio più figo del mondo e magari non ha funzionato per un mio limite io non lo ripropongo al paziente quindi c'è sempre un senso di coerenza interna e quindi i miei pazienti poverini mi guardano gli sembro convincente mi dicono vabbè proviamo e questo è un po' tra la formazione l'esperienza personale il mantenere la curiosità prendere pezzi sentirsi liberi in assenza di giudizio credo che questo sia quello che gli altri colleghi sarebbe importante che coltivassero sì e questo aspetto anche del deve piacere a noi prima di tutto deve essere efficace per noi perché io condivido la mindfulness è una cosa bellissima è dimostrato che funziona però io personalmente trovo che la mindfulness è proprio classica per me è molto statica ma se io lo studio e poi per altri motivi faccio anche un altro tipo di aggiornamento vado a farmi il corso avanzato di cucina perché mi piace cucinare io ho scoperto che affettare le cose fini in modo regolare con un atteggiamento mindful rende la cucina un momento bellissimo a me aiuta a staccare la mente e quindi ho addirittura integrato una disciplina che era nata come approccio per il mio lavoro e poi ho trovato un altro pezzo di passione e così lo faccio per cui come te ho il piano B se un giorno mi stuferò di questo lavoro quasi quasi il cuoco il fumettista ne ho lì una lì ho il piano B C D E nel mio piano B c'era la pasticceria abbiamo svoltato lui e te facciamo una roba disciplina e unità ci sta ci sta e l'idea appunto che quindi questa integrazione è un po' interdisciplinare in tutti gli aspetti della nostra vita allora funziona veramente veramente bene e poi credo che debba passare il fatto che non c'è l'approccio diciamocelo tutti questi mandi che fanno approcci mi tiro via perché io faccio una roba che è un essenziale tutti questi sono un po' narcisisti e hanno l'approccio figo cioè il loro è il più figo del mondo anche meno non sa nulla togliere l'approccio per cui ha grande valore è fantastico che tu abbia fatto questa cosa qui ma anche altro guarda io ho avuto un insegnamento molto bello e questo lo racconto spesso da Onno Mandelart Onno Mandelart che vorrei come nonno di mio figlio tra l'altro che è una persona meravigliosa poco in persona durante la preparazione l'avevo invitato a fare un workshop durante la preparazione di questo workshop diversi anni fa che doveva tenere sulla dissociazione e altri elementi a un certo punto mi scrive una mail io ero l'organizzatrice e mi chiede dei suggerimenti su un esercizio io così guardo questa mail la parte che ho detto ho chiamato i miei amici ho detto basta ok Mandelart mi chiede supporto basta niente mi date del lei perché se Mandelart io gli ho risposto oh no cioè mi chiede a me chiedi dei suggerimenti e lui è stato fantastico perché mi ha detto io vorrei integrare questa parte ma io sono bravissimo sulla dissociazione strutturale ma ci sono delle cose che sono terreno tuo quindi se tu mi dai delle indicazioni su come poterle fare e io le metto nel mio pezzo io sono contento basta love tutta la vita Mandelart ed è onno Mandelart questa stessa cosa che mi è capitata una volta nella vita non mi capita mai come organizzatrice e anche come come dire una che ha fatto congressi andate in giro eccetera ho conosciuto tante volte rappresentanti di sempre con il mio e quello che ho figo sì va bene cioè è bello mi piace anche un sacco e lo faccio ma eh no ok va bene quindi prendo quello che mi serve ma capisco che non è un posto con il quale io posso con il quale posso confrontarmi e dire ma guarda ho provato a fare anche questo no? questo spesso non succede ed è un peccato no? perché invece l'integrazione delle psicoterapie nessuno si è inventato niente cioè è un po' questo no? una riformulazione o il mettere insieme aggiungo le neuroscienze aggiungo questo Borges ormai è fichissimo lo mettiamo dappertutto e va benissimo io lo utilizzo un sacco tutto il modello per cui figuriamoci eh però quella no? quella quella limitazione che a volte diciamo questi grandi che hanno lavorato tanto per mettere giù un modello poi sono così attaccati da non accorgersi che invece lasciare un po' di libertà ma anche di avere spazio di confronto no? di integrazione eh renderebbe tutto molto più semplice anche per chi si approccia no? e che magari dice caspita ho imparato quello che è il modello si fa così non mi sento no? c'è qualcosa che non va non vado bene io in questa cosa qui no? rispetto a dire no no si libero di esplorare sì perché c'è un po' questa idea del ho appreso il modello e a sua volta il fondatore del modello sostiene questa cosa che a volte tu porti una conoscenza nuova che a volte tra l'altro la conoscenza nuova che porti magari è del funzionamento neurobiologico sottostante che non è detto che cambi le conseguenze cliniche però è più chiaro quindi se tu e dice qualcuno ma guarda che la teoria dei tre cervelli è superata ma l'ha detto lo stesso McLean non è che lo sto dicendo io io ti sto solo comunicando questa cosa alcuni ti guardano come se stessi bestemmiando dici che il loro dio non esiste e dici aspetta quella è religione e va bene averla in un certo modo perché è così faticoso e io ho una cosa che ho notato un po' come te mi piace essere pioniere andare avanti per cui Porsche Van der Kolk letti appena uscivano in inglese e poi ti rendi conto che il loro libro diventa famoso in inglese ma il primo articolo l'ha scritto vent'anni prima passano vent'anni diventa famoso negli Stati Uniti passano dieci quindici anni diventa famoso in Italia capisco che magari rimettere tutto in discussione adesso anche per loro al di là del narcisismo non deve essere facile però noi fruttori e diffusori invece dovremmo essere più flessibili e dire sai Maria che c'è sai Fabio che c'è o questa cosa e come dicevi tu creare dei mix interessantissimi perché poi è sarebbe pretenzioso che chi formula quel modello consideri tutti gli aspetti che possono essere in gioco ecco ma visto che sei così creativa e con una sana critica costruttiva una curiosità se vuoi condividerla tipo sei tra le varie cose sei nota per la sensomotoria perché è stata una delle prime a portarla se tu dovessi dire qual è una cosa dove dici qua manca qua mancava qualcosa della sensomotoria mi vuoi nimicare Pat Odden ma sei cattivista una domanda che è orribile questa è il motivo per cui ho trovato il mio modello sul trauma adesso te lo dico cioè tra tutte le cose hai capito che hai scelto no allora partiamo intanto da una cosa bella io l'ho portata in età insieme a mio marito con grande curiosità ed è stato un approccio che io ho amato molto soprattutto poi devo dire il secondo al di là del pezzo del trauma è il secondo livello che è il suo attaccamento è quella forse è la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto in tutti i miei anni di formazione allora quello che poi mi ha portato un po' un po' per crescita in un processo anche di separazione individuazione dopo dieci anni di senso motoria era arrivato il momento di lasciarla andare e di permettere a loro di fare altre cose con un'organizzazione che non sono Maria Pugliatti che è psicosoma e Maria Pugliatti che fa pure le fatture male tra l'altro ma con un'organizzazione fatta bene che potesse portare un livello di un certo tipo io ho un po' appunto questo senso di dire ok ci sto aggiungendo delle altre cose quindi banalmente delle cose viste al primo livello che è tutto un pezzo del trauma vedere che c'erano delle cose che erano insegnate solo al secondo livello e rendermi conto che invece perché non metterle prima perché davano una chiave di lettura maggiore invece di questa separatezza primo livello secondo livello come dire un altro pezzo che per me per esempio è poco funzionale è il contenitore rigido nella senso motoria una cosa che c'è e che funziona io sto parlando di me persona che funziona è proprio il modo in cui è fatta una seduta no? 8 minuti su quello 8 minuti su quell'altro ecco io su questo un po' per scomodità l'ho seguito sentendo che poi a un certo punto per me era scomodo ok io ho un inquadramento di una seduta ma con la libertà del terapeuta anche di capire dove stare un po' di più o un po' di meno no? quindi alcune rigidità sicuramente altri aspetti che secondo me nel frattempo un po' come dicevi giustamente tu no? nel senso che poi senso motoria da noi è arrivata dieci anni fa perché l'abbiamo portata io e Michele dieci anni fa ma in realtà senso motoria ci ha preso 30 anni no? e quindi forse andare un po' a rivedere ad aggiungere delle cose che probabilmente nessuno ha avuto il tempo di fare no? so che ad esempio Esther Perez che adesso è la trainer ufficiale no? perché io ancora allora fino a oggi aveva ancora delle collaborazioni oggi non so se avrò ancora delle collaborazioni per cui sono ancora supervisore faccio ancora degli insegnamenti non so dopo questa intervista se lo sarò ancora va bene lo scopriremo in caso te lo dico per esempio lei è una che è curiosa e quindi magari fa altre cose per esempio lei ha fatto l'MDR piuttosto che la family internal system e quindi cerca di portare no? dei micro cambiamenti no? delle micro cose però è un processo molto molto lento deve essere molto supervisionato ovviamente ovviamente no? perché se parte non è d'accordo non è d'accordo quindi è suo c'ha il diritto di non essere d'accordo in un contenitore un po' rigido no? come è giusto che sia in un contenitore di modello no? quindi quando metto un cambiamento se non lo fa l'origine l'originale mettiamola così deve essere discusso ragionato fatto nel frattempo passano anni no? passa un sacco di tempo no? e quindi sentire che tutto un pezzo andava bene ma appunto a me mancavano degli altri elementi che mi servivano a completare no? quegli altri aspetti anche più posturali no? in una storia postural di lavoro posturale nella senso motore soprattutto nel secondo livello c'è tutto un pezzo posturale però c'è anche nel trauma in realtà ma lì nel trauma è meno evidente e quindi andarmi a recuperare un po' tutto il lavoro fatto no? sulla postura con il mio prof dell'università che ringrazio perché il primo che mi ha dato la possibilità di scoprire la parte corporea che è Bezzi Ruggeri con un debito di gratitudine veramente di avermi iniziato a tutto questo per cui aggiungere appunto quelle parti che io sentivo mancanti no? e poi sai ha detto questo i contenitori dei corsi sono i contenitori dei corsi non puoi fare tutto no? ovviamente quindi ci sono comunque dei limiti certo c'è un contenitore della teoria un contenitore in cui quel corso che veicola la teoria è ulteriormente più stretto uno spazio alla stabilizzazione veramente molto ampio no? là in moltissimi corsi è insegnata ma forse non è insegnato veramente quanto è importante questo aspetto della stabilizzazione che chi mi segue ormai credo che l'abbia capito che ho sparato a un libro di 400 pagine sulla stabilizzazione credo che adesso sia chiaro che alla Pugliatti la stabilizzazione è un pezzo importante piace tantissimo ho fatto un modello sul trauma dove praticamente sono otto moduli di cui tipo sei sono sulla stabilizzazione per dirvi no? perché sono tanti elementi no? quindi essersi resa conto che tutti puntiamo sul trattamento e l'intervento come appunto anche l'intervento senso motorio quando per esempio io ho percepito che più prepariamo il paziente no? a quella cosa lì e più in realtà l'intervento che poi andremo a fare sarà anche più breve e più efficace no? quindi sentire un po' degli elementi di dissonanza su di me no? ma con un debito di gratitudine perché la chiave di lettura che io ho avuto con l'approccio senso motorio l'ho avuto solo con l'approccio senso motorio questo io è il motivo per cui continuo a collaborare nonostante abbia scelto di andare no? a fare la figlia che si separa si individua e produce anche cose sue no? in assenza di conflitto e va bene così credo che con una risposta del genere Patogden possa essere ancora tua amica ma non sono convinta vedremo vediamo cosa dimostrerà rispetto a questa figlia resa autonoma separata individuata non so il problema è che qua ci sono tante mamme e tante papà perché appunto tu non hai solo la sensomotoria come formazione quindi bisogna vedere quanto c'è la gelosia di questa figlia diciamo che già le madri di altri approcci che ho fatto mi hanno diseredato per cui voglio dire non è un problema ma ti capisco bene è un'esperienza molto simile anche la mia perché poi quando si vuole dire la propria ma infatti anch'io adesso nei miei percorsi ho fatto qualcosa di simile perché infatti a me piace parlare delle scienze integrative e non di un modello perché a me piace dire ci sono tante scienze a me piace metterle insieme e dire come io le trovo utili poi a te prendere i pezzetti e smontarteli esatto una volta infatti poi ho cambiato ma su questa linea avevo fatto un protocollo sulle emozioni che iniziava dicendo questo non è un protocollo questo era come dire come dicevi tu il contenitore per chiarezza è ci sono una serie di cose da fare ma non farle in fila perché non ha senso queste sono le cose che secondo me funzionano meglio tu cucine addosso alla persona e credo che questo sia un bel sistema anche perché ci sono delle persone adesso facendo nomi e cognomi brevemente ma senza entrare nell'ambito ci sono persone che magari beneficiano maggiormente ad esempio con le mediere io ho fatto le mediere da 22 anni per cui l'ho fatto 22 anni fa quando erai arrivato in Italia da due anni ed è stato veramente una rivoluzione e continuo a farlo tra l'altro da solo integrato lo faccio non lo faccio perché il punto è che seguo quello di cui ha bisogno il paziente di quello di cui ha bisogno quello che la sensazione è che gli possa funzionare meglio pazienti che beneficiano magari appunto della sensomotoria oppure di quello che faccio io oppure mettere insieme quindi iniziare in quel pezzo aggiungere quell'altro pezzo che dà maggiore efficacia perché avere l'idea che tutti i pazienti li trattiamo con le pdf tutti i pazienti con la sensomotoria tutti i pazienti li trattiamo con la somatic mamma mia diventa poi veramente limitante e se poi con quel paziente e quella roba lì per un qualche motivo non funziona i colleghi vanno in difficoltà perché dicevo cosa faccio adesso? quindi avere un po' questa libertà costruirsi un po' un cappello magico delle competenze in realtà quello che noi facciamo è costruire competenze mettiamo insieme un po' di competenze abbiamo davanti una persona e diciamo ok ma questa persona sulla base di quello che mi sta portando di che cosa ha bisogno e quindi tirar fuori una o l'altra o messe insieme di cose che possono andar bene ma proprio tenendo conto di chi è davanti quindi più che l'approccio in sé che questo funziona su tutti con tutti dovunque ovunque sì per carità però magari a volte ci sono a volte ci sono anche dei piccolissimi dettagli no? poi la parola stabilizzazione è enorme viene interpretata in vario modo comunque credo che il punto centrale su cui un po' tutti sono d'accordo è che vanno creati delle basi come dici tu più queste basi sono floride più tutto il resto viene un po' da sé o comunque molto molto facilitato e in questa fase iniziale si può veramente fare delle scelte anche molto piccole ma se sono mirate la persona le prende le recupera le sviluppa diventa autonoma più facilmente e a volte alcune non sono neanche risorse cognitive e sicuramente sono corporee e a volte sono corporee neanche parlabili una cosa che si trova in tanti approcci detti corporee in senso ampio sono quelle frasi del tipo adesso concentrati sul tuo stomaco cosa senti ma uno cosa sente nel senso le prime risposte sono molto cognitive cosa penso di sentire in realtà allora a volte partendo da certi movimenti allora qui uno può attingere la disciplina senso motori affini a degli sport che ha fatto perché poi a volte ti accorgi che quella rotazione del bacino tu l'hai imparata e ti viene fuori oh mamma era la roba che facevo per non cadere dagli sci o dallo snowboard quando ero ragazzino e se tu recuperi quella in una frazione di secondo tac hai recuperato sì una consapevolezza che poi fa partire un processo importantissimo ma bisogna essere aperti perché se invece ripeti sempre le stesse domande la persona sente quello che pensa di poter sentire e lì si chiude un po' il cerchio sì sono d'accordo bene 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 smontano i modelli ok quindi siamo guardati un po' così è bello ma è un ruolo ci vuole qualcuno che lo fa no? se no sai che cos'è che mi piace Fabio? noi siamo tanto tanto esterofili anche io l'ho portato dall'estero eccetera mi piace la possibilità a parte a parte me o a parte te no? ma mi piace anche la possibilità che anche altri colleghi no? se la rischino un po' no? studiando mettermi un po' in gioco delle cose e proponendo delle cose no? noi in Italia facciamo ancora un po' fatica soprattutto in ambito formativo clinico a produrre delle cose che sono nostre no? nostre ma non per il senso del possesso no? ma come se dovessimo sempre aver bisogno di un riferimento esterno no? come se arriva dall'estero arriva da gradinomi allora è più figo di tutti no? ma in realtà io ho conosciuto un sacco di colleghi anche giovani no? ma che proprio attraverso la loro esperienza avevano un sacco di cose da dire e non si erano mai posti neanche la possibilità no? o l'autorizzazione o l'autorevolezza di poter produrre no? di buttare fuori no? tutti questi questi elementi queste queste condivisioni questo confronto no? quindi io lo dico anche guarda banalmente allora ho fatto un sito che è un sito dove praticamente che è un sito di divulgazione scientifica dove che è gratuito cioè paghi soltanto il pezzo della della grafica no? cioè io mandi io leggo il tuo lavoro ti dico ok lo mando al grafico il grafico fa l'impostazione bla bla lo mette sul sito e c'è un pagamento al grafico che è poco perché per me che è un grande lavoro dove l'idea era hai qualcosa che ti piacerebbe o un caso clinico o la tua tesi o volevi scrivere un articolo oppure hai fatto una non so scoperta ma hai visto che una serie di cose no? hanno funzionato scrivile mandamele e le mettiamo no? quindi come dire dare un grande spazio a tutte quelle situazioni in cui perché per pubblicare un libro sappiamo che è sempre molto complicato eccetera adesso i miei editori mi vogliono bene e mi farebbero pubblicare anche libri sulle doppie punte però sappiamo quanto possa essere complicata l'editoria no? lo sai che in realtà tranne una collega questa cosa qua davanti poi al butta fuori in che senso posso sì chiaro anche di promuovere questa possibilità no? di fare un po' quello che facciamo noi in un modo un po' appunto da anarchici anarchici io molto anarchica insurrezionalista che è butta fuori poi ti va bene non ti va bene hai il diritto che non ti vada bene non so come dire che non ti piaccia ci sta va bene non è un pezzo personale ma proprio di promuovere no? anche la possibilità nei colleghi di sperimentare buttar fuori scrivere condividere no? perché in realtà noi siamo un popolo che fa un sacco di cose sì sì c'è una creatività che in qualche modo è inibita per cui quando racconti questo tipo di proposte grandi slanci tutti col sogno del libro nel cassetto che come dicevi tu sappiamo bene scrivere un libro è impegnativo impugnativo ancora pubblicarlo e tutto quanto quando c'è una chance di pubblicare un articolo anche appunto non su una rivista che ha un parametro molto stretto però dopo l'entusiasmo poi non ha tanto successo e questo credo che sia qualcosa su cui si si possa riflettere forse un cambiamento culturale veramente da da far partire quindi di proposta in proposta esperimento in esperimento ce n'è ce n'è bisogno di modo che uno sviluppi un proprio pensiero che ci sia una cultura molto della stimolazione reciproca come se fosse un grandissimo brainstorming culturale sulla qualità ed efficacia degli interventi terapeutici si la differenza fra essere un fruitore passivo di un qualcosa e diventare parte attiva tutti possono diventare parte attiva io fruisco di un'informazione l'esperimento sento vedo eccetera però ho fatto anche qualcos'altro vedo che cosa succede e divento attivo nel cambiamento anche nell'aggiungere nel togliere nel modellare nel dire oh ragazzi ho fatto questa roba qui ma sta funzionando io ve la racconto poi provateci provate a vedere se vi funziona se vi piace eccetera siete liberi ovviamente di non farlo però promuovere anche un po' questo posizionamento che noi abbiamo un po' passivo dipendente da così come se guardassimo tutti dal basso verso l'alto e non ci venisse in mente che in realtà possiamo cambiare e metterci in un movimento di creatività e dire ma caspita ma se non mi funziona ma come mai non mi funziona perché quello che succede a volte è che questa cosa che ho imparato non mi funziona non la faccio piuttosto che dire ok non mi funziona cos'è che manca cos'è che potrei aggiungere e se faccio cos'è che succede no? e quindi si stimola no? e si apre tutto un processo creativo di movimento di cambiamento no? di trasformazione molto bello sì 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 assolutamente da perseguire senti come ultima cosa mi piaceva toccare anche un po' una curiosità che una domanda scomone l'opera è nata c'è prima una una l'ho già fatta questa è più più velleitaria nel senso che quando appunto qualcuno è un po' creativo ha tanti sviluppi poi ovviamente gli dà forma nel proprio studio e ad esempio quando cose che ho provato io nei miei corsi racconto a un certo punto c'è il punto in cui i partecipanti mi dicono adesso mi obbliga a cambiare l'arredamento perché devo trovare una parete senza quadri per farli mettere contro in piedi per i lavori sulla postura devo prendere il lettino da osteopata perché ci sono alcune tecniche rielaborate da lì e quindi allora la domanda è ma nello studio di Maria cosa c'è di strano che un paziente e magari anche alcuni colleghi non si aspettano sia di oggetto fisico sia di approccio proposta ecco ma in realtà sono imboscati nel senso nel senso che ci sono una serie di cuscini dove io prendo accuscinate i pazienti sono morbidi quanto sono morbidi c'è un senso se li prendo accuscinate ovviamente questa è una pazza che prendo accuscinate i pazienti piuttosto che appunto le palle morbide c'è una serie di cose oppure prima che lavoravo di più anche con i bambini quindi con sedioline piuttosto che tutta una serie di aspetti di giochi per cui magari il collega pensa che lavori soltanto col pezzo adulto davanti a queste robe di bambini oltre al fatto che poi ci lavora con le parti infantili quindi in realtà sono abbastanza imboscate sono apparentemente lo studio della Pugliatti è uno studio diciamo un po' regolare trovi soltanto delle cose simboliche ma è abbastanza regolare è proprio tutto il pezzo all'improvviso che non ti aspetti hai il cilindro magico delle tecniche il baule magico con gli oggetti che non si possono vedere subito al vivo è tutto abbastanza regolare no? c'è lo stereo dove c'è la musica dove faccio delle cose anche con il movimento eccetera quindi può essere lì un bell'oggetto da mettere salvo poi che appunto invece sono nelle cose che faccio no? lavorando ad esempio sul bacino piuttosto che il movimento pelvico eccetera dove appunto poi tiro fuori la musichetta oppure nell'appoggio nell'appoggio e scarica dei piedi cercare insieme delle musiche che possono andare bene sono quelle robe un po' da così che ti tiro fuori di sorpresa apparentemente è uno studio serio adesso che hai detto questa cosa della musica al pavimento pelvico qualcuno andrà su Spotify a cercare playlist per movimento pelvico e vedere se trova qualcosa per avere ispirazione ma magari ne riparleremo in un'altra intervista di quali sono le musiche idonee a quel tipo di attività bene senti Maria io ti ringrazio credo che sia stata una una chiacchierata molto molto interessante per me è stata sicuramente ma sono sicuro anche per chi ci ascolta che ha avuto degli spunti un po' fuori dagli schemi un po' ad attivarsi e credo che ce ne sia bisogno quindi grazie grazie tantissimo guarda l'altra cosa secondo me che i colleghi dovrebbero ricordarsi che essere adulti essere professionisti ed essere dei psicoterapeuti non significa essere dei pacchi il disturbo scemo è quella parte importante di leggerezza che lo portiamo sia nella nostra vita io ce l'ho con me mi prendo moltissimo di lo sono molto autoeronica ma che serve anche ai pazienti e con questo senso anche di leggerezza dove appunto diventare grandi e professionisti non significa diventare questa roba così pesante quindi anche come dire l'entrare in contatto con delle tematiche che sono importanti anche con un senso un po' di leggerezza in termini di superficialità ma che possiamo vedere tutto anche sono gli occhi che cambiano il modo in cui guardiamo le cose le difficoltà sono solo difficoltà sono gli occhi con cui le guardiamo che fa la differenza quindi se siamo riusciti in questa chiacchierata a far cambiare o comunque far pensare di provare occhiali diversi ai nostri colleghi credo che abbiamo raggiunto un buon risultato ottimo grazie lo confido proprio bene grazie ancora e a presto sicuramente dopo questa chiacchierata ci saranno altri sviluppi interessanti a presto grazie a tutti grazie a tutti